Sei anni fa la dismissione del ramo di azienda della partecipata Atam all'LFI per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Una decisione del Comune di Arezzo che alcuni dipendenti dell'allora Atam non accettarono senza colpo ferire. In 45 hanno ingaggiato una battaglia legale trasversale dal punto di vista sindacale che adesso con una sentenza della Corte d'Appello gli riconosce lo stesso trattamento economico degli altri lavoratori. Somme che dovrà pagare il Comune di Arezzo ma la battaglia è anche ideale. Sei anni fa fu stilato un accordo che ci riconosceva in parte tutto quello che si perdeva dal passaggio dato nell'LFI però in compenso chi accettava questo accordo doveva rinunciare a tutto, a qualsiasi rivalza, in qualsiasi azienda subentrasse, in quella dopo. Insomma era un po' un ricatto, un ricatto bello pieno, ti do poco però te devi stare zitto. Noi 45 non l'abbiamo accettato, siamo andati avanti, la nostra battaglia è stata dura. Il primo anno, tengo a precisarlo, era l'anno del terrore. Ce l'hanno fatto di tutti i colori, vero Marzi? Cioè non ci facevano scendere per andare al bagno, ci venivano dietro per sapere se eravamo in ordine. 70 provvedimenti disciplinari una giornata su 90 autisti. Cioè questo la dice lunga, no? E ora finalmente la Corte d'Appello ci ha dato qualcosa. Ha detto, beh, due lavoratori nello stesso posto di lavoro che svolgono la stessa mansione devono essere trattate alla stessa maniera e con gli stessi stipendio. E quindi anche noi dovremmo avere quello che hanno preso gli altri senza però firmarsi niente, firmare nessun tipo di accordo. Cioè praticamente avrete il trattamento diciamo proprio economico senza però perdere insomma anche alcuni diritti. Senza perdere la possibilità di continuare la nostra battaglia. perché diciamo che questa sentenza che ci ha dato un po' ragione è una base per ripartire per le altre istanze che noi vogliamo portare avanti, che sono sei anni che vogliamo portare avanti. Vale a dire che noi siamo stati trasferiti in questo ramo d'azienda, questo ramo d'azienda è stato trasferito in LFI senza che noi abbiamo ricevuto una lettera di licenziamento. Infatti a tutt'oggi ancora noi volendo non siamo dipendenti di LFI, parla Euratm perché non abbiamo firmato nessun contratto.